Quante volte srotolando la pellicola si è appiccicata facendoti arrabbiare? Vuoi sapere come fare? Seguimi! Capita molto spesso con i rotoli di pellicola che si acquistano tranquillamente nei supermercati ma anche quelli professionali che stando al caldo delle cucine quando è ora di utilizzarli si appiccichino e si fa molta fatica a srotolarli magari anche a tagliarli e si attaccano alle mani e vi fanno molto arrabbiare. C'è un piccolo trucco perché questo non accada. Basta semplicemente conservarla in frigorifero. Eccola qua, conservata bella al fresco. Una volta che l'abbiamo tolta mettiamo il formaggio dentro nella ciotola e si tira molto semplicemente in questo modo senza fare le grinze. Et voilà! Ti è piaciuto? Allora dai seguimi così scoprirai altri fantastici trucchi. Grazie!